Ed eccomi qui ragazzi, oggi come avete detto dal titolo che si trova come al solito qua sotto Andremo appunto a fare una reaction ragazzi a dei giocatori veramente fuori di testa che giocano con dei tasti assurdi E sto parlando di gente come Mitro, Stretch e tantissimi altri ragazzi che appunto giocano con i tasti con F1, F2, F3, F4 E sono veramente scomodissimi Per farci capire in pratica ragazzi buildono con questi tasti qua qua sopra che sono veramente un sacco lontani e un sacco scomodi Ma prima di cominciare con il video come al solito ragazzi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace Grazie a tutti quelli che lasciano sempre like ad ogni mio video anche quando esce da pochi minuti ragazzi Grazie veramente a tutti quanti quelli che lasciano sempre like Veramente grazie di cuore E non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale perché è molto ma molto importante Zain SG ciao, Zain un giorno mi fai il provino? Gioco da pad ma non sono stra forte Ok E prima di continuare come al solito ragazzi non dimenticatevi di utilizzare sempre il codice supporto a un creatore ragazzi Zain SG Perché ormai tutti usano il codice Zain SG Cioè ascoltate pure le mucche Cioè avete visto? E come al solito vado ad aggiungere una persona che ha usato il mio codice supporto a un creatore Che è questo ragazzo qua che mi ha inviato foto e video su Instagram Quindi grazie mille per aver usato il mio codice creatore Ti ho inviato la link che sono amicizia Se anche voi volete essere aggiunti nella mia amica usate il codice creatore Inviatemi foto e video su Instagram e ragazzi seguitemi su Instagram perché lì parlo con voi E parliamo, chattiamo Quindi mi raccomando passate dall'Instagram Ora vi lascio con il video e buona visione Ora ci siamo Mettiamoci le cuffie e partiamo 3, 2, 1, partiamo Eccolo qua Questo qua ragazzi è il primo ragazzo che ci guardiamo oggi Vediamo cosa ha combinato Un bella kill Nulla di che Raga Questo qua è il pesce dorato Che tra l'altro io mi ricordo che una volta un italiano l'ho trovato Mi sembra Izzia l'ha trovato una volta durante una competizione O una cassa non mi ricordo E ragazzi questo pesce qua Quando lo lanci toglie tipo 200 One shot È veramente fortissimo Però adesso l'ho tolto Quindi questa clip è molto molto vecchia E ragazzi Io personalmente non l'ho mai trovato Non l'ha mai trovata nessuna persona con cui ho mai giocato È veramente rarissimo Però io adesso voglio vedere le persone che giocano con i tasti distorti Cioè con i tasti tipo stranissimi Incredibile Un botto di culo E vabbè si è avuto un botto di culo Vediamo chi è che sta arrivando No way Lashlan Lashlan Ah ma questo è l'amico di Lashlan Molti di voi probabilmente non se ne rendono conto Che questo pesce dorato Questo coso Questo piccone Quello che è Quest'arma È tipo assurda Assurda Perché effettivamente c'è nel gioco Ma è introvabile Ok contro l'ultimo nemico Mi sa che userà il pesce dorato Vediamo cosa fa sto ragazzo D'altro io personalmente ragazzi Questo qua non lo conosco sinceramente L'altro si lasciano Vabbè è ovvio Ma io non lo conosco Oddio ma è scarso Ok si è scarso sto ragazzo Sta facendo Sta facendo Cosa sta facendo Vai tirale sto pesce Vai Tirale lo Ma Oh my god Io vedete ragazzi che è fortissimo Wow Wow Mythic goldfish Pesce dorato ragazzi Wow Ok Quanti kill Perché 69 Ma Non ho capito sta clip Va bene va bene va bene Facciamo vita di nulla Allora Fresh ASEAN Vediamo cosa fa Con la K A K e barrette Pompa Ma che modalità è questa In trio Arena Ma quando c'è mai stata La K Nella nuova mappa Mi sono perso qualcosa Mi sa che mi sono perso qualcosa Ragazzi Boh Eccola qua ragazzi La clip Che stiamo aspettando tutti quanti Il ragazzo Già lo vedete dalla mano Come la tiene Che sta per buildare con F1 F2 F3 F4 F5 Tassi veramente fuori di testa E vediamo come parte Quindi 3 2 1 Andiamo Ok Guarda le dita Eeeh Va bene Cioè tra l'altro è fortissimo Cioè Hanno fatto uno zoom Guardate Oh Mio dio Guarda le Oh Tra l'altro F1 lo preme con l'annullare Cioè guarda il mignolo quanto vola in alto Va verso ESC Ma cos'è Ragazzi 10.000 mi piace E proverò a giocare con questi tasti Anzi facciamo una cosa 15.000 Perché so che questi tasti qua ragazzi Se me li metto Impazzisco Perché tra l'altro in questo momento ragazzi Sto facendo molti meno gameplay Perché ho cambiato i miei tasti Oh mio dio Quanto è forte Ok Vediamo cosa fa Continua a prebuildare Ma tra l'altro che è questo Questo non è Mitro Non è Mitro Perché questa qua non è la tastiera di Mitro Cioè oppure sì Non lo so Ragazzi non è Mitro questo in teoria Oh mio dio Quanto è forte Cioè Sono veramente scioccato Ma immaginate di giocare tante ore Ed essere così veloci Cioè Di continuo a buildare così Dopo un po' ti stanchi penso Cioè What the Cioè 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 non so dove guardare Perché alla fine È un classico giocatore fortissimo Però che builda con F1 F2 F3 F4 F5 Cioè guardatelo Continua Fortissimo Fortissimo Io non so chi è questo ragazzo Perché non c'è scritto Non ne ho idea Però veramente fuori di testa Fuori di testa Cos'è sta roba Ok Cioè Mi da che Se ne va Se ne va Se ne sta andando Ma dove sta andando Ah così cammina Ma No vabbè Questo è un bug assurdo Non c'è mai stato Io non l'ho mai vista Sta roba E muore dalla safe Giustamente Perché la tocca Cioè la tocca la safe Ok Ok vediamo questa ragazza Ma Che non sto capendo Te le risate ovunque Non sto capendo E quindi Boh vabbè Non l'ho capito Eh Ah distrutti Malissimo Advice Vabbè Questa ragazza è un pro player Li hanno distrutti Li hanno altrimenti distrutti Assurdo Ok Chi è questo Laserata no Cosa fa Andiamo Pusha Vediamo che fa Avanti E coltata amica Papapapapa Vediamo Cosa fa Oh 190 Easy Cosa Arriva E vabbè Bravo bravo Questo qua Non so Questo è bravo Ok Chi è questo Bella Questo qua ragazzi Ha una mira assurda Non so se avete visto Ma questo qua Ha una mira Veramente buonissima Ok vabbè L'ho detto amministrato Però comunque E infatti si vede Che ha una mira fuori di testa Ammazza pure l'ultimo Ne ammazza un altro Vabbè Ma qua ti arriva fuori What Quattro Ah sono brasiliani questi Ne ha uccisi Quattro Oh Scolli Vediamo Scolli Che fa Cosa fa Entra dentro E va con la R Ah Ha distrutto Poverino Poverino No Chi è Mi sa che è un suo amico Vediamo Quando lo conferma No Oh Vediamo chi era No Una a caso Ok Sta rosicando Ok raga Quel video là è finito Però voglio vedermi Un altro ragazzo Che gioca con questi tasti qua F1 F2 F3 F4 Però con Mi sembra Io non vorrei dire una cagata Però potrebbe essere un portatile Perché mi sembra una tassiera da portatile Ok sta facendo vedere come builda Edita con E Ok Sono curioso come builda Ma cosa sto vedendo Oh mio Dio Vediamo i 90's Ok Cioè lui letteralmente tipo A e D Non li può schiacciare Cioè lui tira dritto Normal side jump Ok vediamo come salta Ragazzi di profilo Di lato Ok Scala Kono Oh Quanto Cioè È veramente stranissimo Vedere persone che usano questi tasti qua Vediamo adesso ragazzi Come fa i time build Ok vediamo un po' normalmente Ok parte con i 90's Cioè Ma cosa sto vedendo Ok Vabbè ok Magari lui non è fortissimo come Mitro Cioè ci mancherebbe Ok per carità Però Adesso voglio cercare Però Mitro Che è il king di questi tasti Mitro Ed eccolo qua Ok Parte a buildare Vediamo ragazzi Mitro Cioè Cioè Ok va bene ragazzi Mitro è fortissimo E guardate quanto casino fa Guardate le mani Cioè guardate la mano sinistra Ma il mignolo tipo Lo tiene su Shift Ma lui Non si abbassa con control Cioè lui Mi sa che ragazzi Lui non usa neanche la corsa fissa Cioè lui mi sa che corre Eh sì Assurdo Ok Vediamo un attimo Lo spezzone di questa partita Di Mitro con i tasti Cioè comunque tra gli altri ragazzi Mitro È uno dei miei giocatori preferiti Wow Cioè io non so se guarda il gameplay O i tasti E vabbè la serata Cioè E vabbè Che poi tra l'altro in questa cam Si vede un pochettino Ma non troppo Mamma mia Mamma mia Tra l'altro ragazzi Ricordo che Mitro Ha vinto l'FNCS In trio Cioè in questo momento è Il campione dell'FNCS In trio Insieme a Mongra Le Tyson Bello Bello Wow E allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come soltanto vi ricordo Ciao un bel impiaccio Mira quando iscrivetevi Io ragazzi vi saluto Noi ci diamo come sempre Qua sul canale Alle 12 e mezza Ogni giorno un nuovo video Da se c'è tutto Bello Bello Ciao un bel impiaccio